musica 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 vado a prendere una birra che tanto? ma è lì è lì beh no non si può fare pubblicità casino adesso sono andato qualche volta in Venden perché adesso in realtà ho due progetti il primo è di fare in Libera Cleopatra che è una via che va liberato via Camerlander che però quanto pare è stato un appiglio un appiglio chiave da riliberare e sono andato a studiarla un po' e volevo tornare per farla eh adesso vediamo se il tempo anche lì fa buono volevo tornare per fare un tentativo e poi con Fabio Palma abbiamo aperto negli anni scorsi una via nuova sul mare di Cielo Fisis di una via di quasi 20 tiri e anche lì siamo andati su una volta a iniziare a provarla per farne il Libera quindi siamo andati su un giorno e abbiamo provato i primi 5 tiri cioè i primi 4 su 7 AB poi il quinto è duro e poi c'è da provare la parte sola quindi diciamo che fino a 10 giorni fa è andata bene poi adesso sono arrivate le condizioni da schifo in montagna sempre brutto qua troppo caldo e quindi beviamo birra aspettando tempi migliori eh grazie 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 grazie